E' un'attività di Giacomo. E' un'attività di Giacomo. I consiglieri e poi ricorda i popolari rappresentano il gruppo più numeroso da Pollonio. Non può non tenerne conto. Divulgare e valorizzare la storia del Molise con un premio e una borsa di studio dell'Ivesmo, istituto rivalutato dal governatore, il professor Pardini, necessario produrre opere che vadano fuori dalle biblioteche del territorio. Infine allo sport e il calcio di Serie D giocano tutte fuori casa le Morisane, Campobasso a Recanati, Isernia, Aiesi, Agnonese ad Avezzano. Ben trovati, ben trovati con la nostra informazione. In apertura, l'avete sentito dai titoli, c'è la cronaca, la tentata, evasione dal carcere di Campobasso. Lunedì alle 10 nel capologo di Regione manifestazione di solidarietà nei confronti dell'agente che ha estratto la pistola puntandola contro il detenuto. Di Giacomo avverte e dice che l'agente verrà licenziato, posso assicurare che non avrebbe mai sparato. La manifestazione di solidarietà lunedì mattina alle 10 davanti alla casa circondariale di Campobasso, il sindacato di polizia penitenziaria si schiera con il poliziotto sospeso dal DAP e quindi ad un passo dal licenziamento. Come trasformare un'ottima notizia in una situazione deplorevole e inaccettabile? Le parole durissime del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini che ha subito stigmatizzato le immagini successive alla cattura di un detenuto che aveva tentato di darsi alla fuga. Di Giacomo, lunedì mattina salete in piazza per veicolare quale messaggio? Che il poliziotto penitenziario innanzitutto ha perso il lavoro, una persona con due figli, in 12 ore ha perso il lavoro. Questo è un atto, secondo me, vergognoso, esagerato, ha sbagliato, deve pagare ma non in questo modo. Di Giacomo parla di condotta energica del collega di pressione psicologica che in quel momento può giocare brutti scherzi ma chiarisce con forza che quella pistola non avrebbe mai sparato neanche dopo lo scarrellamento. Il detenuto non vuole rientrare. Il collega ha posto in essere un'azione grintosa, eccessiva ma con il rispetto delle norme di sicurezza. C'era la pistola, c'era la sicura. Ciò significa che la pistola non poteva mai, mai e poi mai sparare. È un modo deciso di dire o ti siedi o ti siedi perché o esigui i nostri ordini di rientrare in carcere e ti fai ammanettare altrimenti corri questo rischio. Ma è solo il modo di mettergli paura perché la pistola non poteva assolutamente sparare. Resta tuttavia quell'immagine forte, la pistola puntata al volto di un detenuto e tanti interrogativi. Come fa un detenuto a fuggire con le stampelle fuori ad attenderlo? C'era qualcuno? La fuga era premeditata? Il telefono ritrovato all'interno dell'istituto subito dopo il tentativo di fuga era nella sua disponibilità? A queste domande proveranno a dare risposte gli inquirenti che si stanno occupando del caso che ancora una volta ha messo in evidenza lo stato di complessità e pericolo del sistema carcerario italiano con Di Giacomo pronto a spostare la protesta a Roma sotto il ministero per evitare il licenziamento di chi è vittima e non carnefice. Il detenuto scappa, scappa per una strada precisa e scappa soprattutto nel momento meno opportuno. Quando sta in carcere, quando ci sono più gente a disposizione, quando avrebbe dovuto tenere le manette e questo è strano. Lascia pensare che già il fatto che lui ha finto, perché se uno corre alle stampelle e poi corre come una gazzella, finge. Evidentemente ha messo in atto un tentativo di scappare studiato da subito. Ciò lascia preso a gire che ci potevano essere complici ad aspettarlo, ciò lascia preso a gire che ci potevano essere armi in giro. Noi non siamo i carnefici, noi siamo semplicemente delle vittime e so che le persone la pensano allo stesso nostro modo. Ora parliamo dell'ex capannone Enel a Campobasso, abbattuto, raso al suolo a tempo di record. State vedendo le immagini. E' arrivata anche la comunicazione da parte del sindaco Battista e dell'assessore alla mobilità Francesco De Bernardo. A seguito dell'abbattimento dell'ex capannone Enel di via Gazzanni, le strade chiuse saranno riaperte al traffico a partire dalle 18. Battista e De Bernardo precisano inoltre che su Viale Elena e via Albino sarà ripristinato il consueto senso di marcia. L'amministrazione comunale ringrazia la popolazione per la collaborazione e si scusa per i disagi arrecati. La zona verrà in qualche maniera protetta con delle paratie, dunque messa in sicurezza con delle protezioni. Sull'area la ditta proprietaria del terreno e anche dell'immobile abbattuto, l'impresa di Biase potrebbe costruire una nuova struttura, ma molto dipenderà anche da cosa deciderà il Consiglio di Stato la prossima settimana. Incidente questa mattina sulla strada statale 85 nei pressi del bivio per Pozzilli. State vedendo le immagini. Una ragazza di 28 anni ha perso il controllo della sua DV Matiz andando a finire sul muro di cinta di un'abitazione privata, necessario l'intervento del 118 per trasportare la ragazza al veneziale, le sue condizioni non sono definite gravi dai sanitari, sul posto anche i vigili del fuoco, del comando provinciale di Sernia e di carabinieri di Venafro per i rilievi. Il traffico sulla Venafrana ha subito pesanti rallentamenti durante le operazioni di recupero dell'utilitaria. Un altro incidente c'è stato ieri sera lungo la Trignina a dimostrazione che quella è un'arteria particolarmente pericolosa, soprattutto quando piove. Lo denuncia il Presidente dell'Associazione del Comitato Pro Trignina, Bruzzo e Molise, Antonio Turdò, state vedendo l'immagine di quanto accaduto Turdò e l'Associazione Comitato Pro Trignina, Bruzzo e Molise, chiedono il raddoppio del Fondo Valle Trigno. Cambiamo argomento, 8 milioni di euro per rilanciare Campitello Matese. Ne abbiamo parlato questa mattina con il Governatore Donato Toma che dice prima il risanamento della società con Funivie che assorbirà il consorzio Ecorai, poi gli investimenti lo ha deciso Toma con la sua giunta. Sentite cosa ha detto ai nostri microfoni. C'è una nuova idea per Campitello Matese? Abbiamo una nuova e importante idea per Campitello Matese, ma lei sa che per realizzare delle idee importanti bisogna partire da un terreno pulito, quindi pulito dai debiti, con società che servano e non con società pleonastiche, cioè esuberanti, inesubero. Quindi abbiamo deciso su Campitello Matese, tutta la giunta ha deciso di mettere mano alla situazione societaria di Campitello Matese e ha deciso di appianare, ripianare i debiti. Poi ci saranno investimenti? Abbiamo a disposizione circa 8 milioni di euro da programmare su Campitello Matese, li potremo programmare quando i nostri interlocutori saranno interlocutori atti a recepire i finanziamenti e a investire senza avere problematiche diverse. Parliamo di politica perché ieri sera acconto alla rovescia tanti ospiti e tanti spunti di riflessione. Allora vediamo il servizio che in qualche maniera riassume gli argomenti più importanti che sono stati affrontati nel talk condotto da Pasquale Damiani. Il reddito di cittadinanza, il ruolo dei centri per l'impiego in Molise, l'individuazione dei navigator, se ne è discusso ieri sera a conto alla rovescia. Pasquale Damiani incalza l'assessore Luigi Mazzuto, rientrato poco ore prima da Roma dove aveva partecipato ad una riunione operativa sul tema. L'aspetto che stiamo trattando ora è quello politico. Se c'è una volontà reale politica del Ministero del Lavoro di ragionare con le regioni oppure no e poi magari nel momento in cui questa volontà magari si è manifestata, si manifesterà concretamente, noi abbiamo posto al tavolo una serie di rilievi, anche quella che è il decreto che dovrà essere convertito in legge e che non può prescindere da un dato soprattutto. In materia di lavoro le regioni hanno la titolarità di intervento, quindi nella gestione dei centri per l'impiego e degli interventi e delle assunzioni. Noi con il Ministro del Lavoro Di Maio abbiamo affrontato anche il problema della lotta al caporalato e la lotta al lavoro nero, quindi le commissioni ministeriali stanno lavorando, c'è un confronto anche con le regioni. Al centro del talk di Teleregione è anche la politica, le elezioni in Abruzzo ed il ruolo di Matteo Salvini, il politico del momento, come ammette l'assessore Nicola Cavaliere. Lo stesso Salvini che è una persona che sa comunicare e comunica ciò che vuole sentire la gente, poi magari nella pratica delle cose si hanno maggiori difficoltà perché non sempre le situazioni possono essere portate ad un percorso definito. e quindi c'è questa ondata che per quanto riguarda il centro-destra ben venga, ci mancherebbe. C'è stata l'ondata di Forza Italia per tanti anni con un leader Silvio Berlusconi che si ha candidato in tutti i collegi elettorali e ancora una volta, nonostante la sua giovanità di 82 anni, io sono convinto che Forza Italia arriverà a risultati a due cifre. Politica nazionale e regionale, le peculiarità del Morise, la cura e la valorizzazione dell'antico in una visione di insieme. L'architetto e storico Franco Valente si complimenta con il governatore Toma per aver detto no agli interventi a pioggia. La cosa che mi ha detto Toma e che io condivido in pieno è finita l'epoca degli interventi a pioggia, che arriva quello, ti chiede una certa cosa e tu ti impegni a dare quel finanziamento, bisogna avere il coraggio di trovare nel Morise dei motivatori, è la motivazione che va cercata, non è un problema di soldi, perché i soldi poi alla fine si trovano, lo sta dimostrando il governo, non so come li trova, però il governo sostiene che non è un problema di denaro, ma di utilizzazione di quel denaro. Il Morise ha una grande quantità di denaro da poter utilizzare, ma fortunatamente sta in una fase di attenzione, cioè sta cercando di capire se questi soldi devono essere destinati a un programma finito il quale vi è un organismo che funziona, oppure una distribuzione a pioggia come si è fatta nel passato, senza ottenere poi dei risultati precisi. Piccolo Morise che da 12 anni può contare su una banca a sua immagine e somiglianza, che fa registrare utili sempre maggiori, numeri in crescita, la banca dei piccoli imprenditori, la definisce con orgoglio il presidente della Banca Popolare delle Provincie Morisane, Luigi Sansone. Nella nostra realtà italiana, del sud e in particolar modo del Morise, la mancanza di una banca locale si sarebbe sentita pesantemente. E allora siamo nati con un gruppo di imprenditori e piano piano questa banca, nonostante abbia attraversato il periodo più buio, quello della crisi, ha dato dei risultati, perché fortunatamente le banche si misurano con i numeri, non con le chiacchiere. Oggi la banca, dicevo prima, conta 2.600 soci, ha 5 filiali, adesso 3 in Morise e 2 in Abruzzo, abbiamo in anima di aprire anche a Benevento e a Lanciano, questo in prospettiva, e 6.000 conti correnti. E diciamo che quest'anno stiamo per approvare il bilancio del 2018 che per la settima volta fa registrare un utile crescente. Questo non perché siamo maghi, ma perché, torno al discorso di base, abbiamo capito quanto fosse importante per questa regione avere una banca locale, io dico con orgoglio, la banca dei piccoli imprenditori. Infine l'Alto Molise, rappresentato dai sindaci di Agnone e Capracotta. Lorenzo Marcovecchio potrebbe succedere a Lorenzo Coia, al vertice della provincia. Sicuramente è un'opportunità, è un'opportunità per l'Alto Molise, ritengo, insomma, avere una presidenza di provincia, sebbene ormai le competenze della provincia sono limitate, però nel settore che interessa, quindi viario e scolastico, potrebbe essere un'opportunità sicuramente da tenere in considerazione. Mentre il primo cittadino, Candido Paione, approfitta della presenza degli assessori Mazzuto e Cavaliere per sollevare una stortura tutta italiana in tema di rimborsi ai comuni per lo sgombero della neve. Io mi rivolgo agli assessori, c'è l'assessore all'agricoltura e l'assessore alle politiche sociali. È importante, è importante dare anche questi segnali e dire la regione c'è, nessuno vi abbandona, anche perché in passato abbiamo visto, abbiamo assistito a situazioni paradossali. C'è una legge regionale che disciplina il rimborso dei contributi per lo sgombero della neve, che sono chiaramente dati in base ai chilometri di strade ed è ovvio ed è giusto. Però guardate, i paradossi ai quali abbiamo assistito sono questi, ci sono stati anni, annate, nelle quali ha nevicato, ha fatto una spruzzatina di neve a Termoli. Bene, Termoli, il comune di Termoli, ha preso più soldi di rimborso per la neve, per lo sgombero della neve, del comune di Capracotta. E ora andiamo a Isernia. Giovanni Fantozzi avverte il sindaco sulla presidenza dell'Assise, sia sovrano il parere del Consiglio Comunale. Poi ricorda, i popolari rappresentano il gruppo più numeroso. Da Pollonio non può non tenerne conto. Lo ha intervistato Nicola De Santis. Per quanto ci riguarda, noi chiediamo soltanto il rispetto delle regole, il rispetto dei numeri che abbiamo. Siamo fedeli a questa amministrazione, abbiamo partecipato alla elezione in maniera compatta. Noi siamo fin dall'inizio con questa amministrazione, vorremmo rimanere con questa amministrazione, desideriamo lavorare con questa amministrazione. Adesso tutto sta a vedere, però esigiamo una cosa soltanto. Vogliamo, esigiamo il rispetto di quello che rappresentiamo. Gianni Fantozzi, decano dei consiglieri a Palazzo San Francesco, con garbo ma con determinazione chiede al sindaco da Pollonio l'esecutività dell'articolo 22 dello Statuto, che prevede la decadenza del Presidente del Consiglio dopo 36 mesi dal suo insediamento. Provvedimento subiudice se si considera che è stato richiesto il parere della Prefettura e del Ministero per stabilire se l'articolo 22 sia efficace nel corso dell'attuale Consiglio Comunale oppure se trovi attuazione con il prossimo governo cittadino. I risultati di questa richiesta di parere è sempre rimane un parere. Quindi io ritengo che la collegialità del Consiglio Comunale è suprema in ogni atto che va a porre in essere. Quindi se il Consiglio Comunale ritiene di seguire il parere, a prescindere se è favorevole o negativo, lo può seguire quello che dice il parere oppure lo può disattendere. Ovviamente prendendosi e assumendosi le responsabilità del caso. È chiaro che il posto di Presidente del Consiglio, attualmente occupato da Peppino Lombardozzi, si è ambito. Ed è altrettanto evidente che sia Fantozzi a ritenere suo di diritto quello scranno, al di là delle frasi di circostanza. Io non sono, non sono, io sono un Consigliere Comunale tra i 32 del Consiglio Comunale che potrebbe occupare quel posto. Dico potrebbe perché sono i Consiglieri Comunali che devono esprimere il proprio voto, il proprio senso, il proprio consenso su una figura che loro ritengono possa gestire al meglio questo tipo di discorso. Fermo restando che se il Consiglio Comunale dovesse ritenere che l'attività non debba essere riconfermata dall'attuale Presidente del Consiglio, noi siamo seguiosi di quelle che sono le direttive del Consiglio Comunale. Strettamente connesso al discorso del Presidente del Consiglio c'è il capitolo relativo alla Giunta. Per Fantozzi da Polonio non deve mutare l'attuale squadra di governo. Se dovesse decidere però di avvicendare uno o più assessori, a quel punto i popolari avrebbero diritto a due posti in Giunta. Pur essendo un gruppo in maggioranza relativa, più numeroso all'interno della maggioranza, non abbiamo mai fatto avanzato per le tese richieste di occupazione di posto. Ovviamente riteniamo che la Giunta deve rimanere tale, deve rimanere ferma così come è stata. Nel momento in cui si dovesse modificare qualche cosa, giustamente allora a quel punto, forte dei numeri che abbiamo, anche noi abbiamo diritto ad una rappresentanza. Una rappresentanza che poi sarà il Sindaco che è il responsabile unico della tenuta della maggioranza a gestire e a fare quello che dovrebbe fare. Parlare di crisi è forse prematuro. Chiaro però che la granitica maggioranza che ha sostenuto da Polonio all'inizio del mandato oggi non è più tale, poiché gli assetti in maggioranza sono profondamente mutati. A questo punto l'unico maestro che dovrebbe farsi carico di questa situazione è il Sindaco e i responsabili a livello di partiti che hanno garantito e hanno permesso di formare una coalizione a sostegno di questa amministrazione, di questo Sindaco. Quindi ritengo che la palla passa al Sindaco e a coloro i quali, i big diciamo della politica, i quali devono tirare le somme e dare delle direttive precise per fare in modo che non avvenga, che ci possa essere una crisi, che possa avvenificarsi una crisi al Comune di Serra. Mentre a Termoli si lavora in vista delle prossime amministrative, ieri sera a tavolo del centrodestra con parola d'ordine inclusione, lavori seguiti da Giovanni Cannarsa. Si scaldano i motori in vista delle prossime amministrative di Termoli. A maggio si tornerà le urne per eleggere il nuovo Sindaco e con molta probabilità al centrodestra bruciano ancora i 400 voti che al ballottaggio divisero la coalizione dal centrosinistra che alla fine bella meglio eleggendo a Sindaco Angelo Sbrocca. In virtù delle mancate condivisioni dell'ultima volta la coalizione ha convocato il primo tavolo ufficiale, a quanto pare all'insegna della condivisione e dell'inclusione. Alla prima riunione del centrodestra erano presenti i fratelli d'Italia con Luciano Paduano, Franco Baccari e Costanzo Della Porta, la Lega con Neglio Scutti, popolari per l'Italia di Vincenzo Niro rappresentati dal sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, la democrazia cristiana di Antonio Di Rocco, direzione Italia di Fitto con Antonio Di Brino. Alla coalizione aderiscono per il momento anche due in movimenti civici, prima Termoli rappresentata da Cristian Zami e per Termoli assente ieri sera e che fa capo all'ex assessore al bilancio Giuseppe Spezzano. Assente Forza Italia, il coordinatore cittadino Francesco Roberti era impegnato a Pescara per l'incontro con Silvio Berlusconi. Il centrodestra è compatto, è deciso a vincere le prossime amministrative, abbiamo iniziato già da qualche giorno ad incontrarci, adesso siamo qui riuniti per innanzitutto iniziare un programma elettorale e per cercare di dare un segnale a tutti quelli che si ritengono vicino al progetto del centrodestra di sposare questa causa e di ridare dignità a questo Paese. Oltre ai tradizionali partiti che contraddistinguono la coalizione ci sono anche dei gruppi civici, dei movimenti che si stanno avvicinando a quella che poi sarà la coalizione vera e propria per le amministrative. Assolutamente sì, sono già due le liste civiche che hanno sposato questa causa del centrodestra. Bene questa domanda perché voglio ribadire che il centrodestra è inclusivo e pronta ad accogliere tutti quelli che vogliono sposare questa causa, sicuramente portando un valore aggiunto a quello che può essere una lista civica al programma del centrodestra. Ecco, vi siete anche incontrati di recente, altre volte erano immersi dei piccoli particolari in no ai trasfughi per quanto riguarda la candidatura a sindaco, però a quanto pare potrebbero essere accettati come candidati consiglieri. Assolutamente sì, come figura apicale sicuramente no, sarebbe l'inverosimile della politica, però sicuramente se hanno spazio in una lista civica e vogliono sposare la nostra causa sono ben accolti tutti quanti. Perché i termolesi e le prossime amministrative dovrebbero scegliere il centrodestra? Perché io ho sentito qualche giorno fa un consiglio comunale dove dicevano che loro i problemi li risolvono, ma da come hanno trattato la bandiera blu penso che loro i problemi non li calcolano proprio, avevano un problema fondamentale, quello che era stata la bocciatura della bandiera blu, come l'hanno risolto non facendo la domanda. Questa è la soluzione dei problemi? No. Quindi il centrodestra è pronto a cercare di cominciare a lavorare per risolvere tutti i problemi che questa amministrazione lascerà, quindi sicuramente gente esperta, un gioco di squadra per ridare dignità a questo territorio. Divulgare e valorizzare la storia del Molise con un premio, una borsa di studio dell'Iresmo, istituto rivalutato dal governatore Donato Toma. Il professor Pardini ha invece sottolineato la necessità di produrre opere che vadano fuori dalle biblioteche del territorio. Questa mattina conferenza stampa, c'eravamo anche noi, vediamo tutti i dettagli nel servizio. Un premio per la divulgazione della ricerca storica Giorgio Palmieri con un bando dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise Vincenzo Cuoco e una borsa di studio per attività di ricerca sui partiti politici nel Molise e del secondo dopoguerra. Stamattina a Campobasso, a Palazzo Vitale, la presentazione delle due iniziative dell'Iresmo. Sentiamo il premio per la divulgazione della ricerca storica dedicato a giovani studiosi, ricercatori che abbiano pubblicato saggi, articoli o monografie o che abbiano scritto tesi di laurea o di dottorato sui temi indicati dal bando che poi sono temi relativi alla storia del Molise e ai suoi protagonisti. Premio dedicato a Giorgio Palmieri, una figura di studioso di altissimo livello che ha dato tanto alla ricerca storica del nostro territorio. Una sezione particolare dedicata alle scuole perché noi abbiamo scelto di occuparci in particolare delle scuole e di creare questo legame con le scuole perché vogliamo diffondere lo studio della storia del nostro territorio nelle scuole proprio perché le nuove generazioni devono crescere consapevoli delle radici a cui appartengono e quindi speriamo che le scuole partecipino a questo premio in maniera importante. La storia rappresenta l'identità culturale di un popolo, le parole del professore Unimol Giuseppe Pardini che ha spiegato però che il Molise deve produrre opere che vadano fuori dalle biblioteche regionali. Noi dobbiamo cercare di far comprendere la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra società anche fuori dai confini della nostra regione perché questa è una realtà territoriale che ha molto da un punto di vista turistico, culturale, artistico e quindi ritengo che sia meritevole occuparci di questioni, in questo caso dell'iresmo, storiche di ricostruzione temporale ai fini di una divulgazione della nostra realtà territoriale. L'iresmo ha la missione di promuovere, svolgere e coordinare ricerche, studi e pubblicazioni sulla storia e la cultura della regione Molise, dalle origini ai nostri giorni. L'istituto dispone anche di una biblioteca che si spera presto possa essere riaperta al pubblico, specializzata nella raccolta di documenti e pubblicazioni. Negli ultimi anni il contributo della regione si è ridotto da 200.000 a 30.000 euro e dal 2013 l'istituto non ha prodotto servizi opere e cultura. È stato dormiente ma l'ho rivalutato, dice Toma, nel corso della conferenza stampa. Io su di Resmo avevo da approfondire un buon manager, un buon amministratore quando arriva in una struttura nuova. La prima cosa che deve fare è capire dove si trova e chi ha di fronte. Ho capito dove mi trovavo finalmente, so perfettamente chi ho di fronte. Oggi devo dire che l'iresmo è un istituto che se valorizzato come merita dà buoni frutti, li ha dati senza avere grandi risorse. Mi sto chiedendo se ne darà ancora di migliori avendo migliori risorse. La storia per non ripetere gli errori del passato. Il governatore non dà giudizi sugli uomini politici di oggi e di ieri ma si sofferma su quanto fatto dai politici dell'altro ieri. Posso dare però un giudizio sulla classe politica dell'altro ieri e del secondo dopoguerra e il mio giudizio è sicuramente positivo perché molte cose che sono andate a vantaggio di questo territorio sono state pensate da quella classe politica. Bene, tutto con l'informazione. Prima dei saluti c'è il meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione domani. Previsioni del tempo di domenica 3 febbraio. Giornata trattiugiosa con addensamenti più compatti e qualche pioggia sui settori centro-occidentali. Temperature insensibile diminuzione, ventilazione meridionale, indecisa attenuazione nel corso del giorno, basso, adriatico, mosso o molto mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 5, massima 11 gradi. Isernia 3,12, Termoli 6,12, Venafro 6,13. Bene, è tutto con questa edizione. Restate con noi. Tra pochissimo c'è la pagina sportiva. Lo sport, il calcio di serie D con la grafica. Vediamo il programma completo di domani con le gare in programma. Giocano fuori casa, Campobasso, Agnonese e Isernia, come vedete dalla schermata. E allora andiamo nel dettaglio. Iniziamo dal Campobasso con il problema ad una mano per Giacobbe. Campobasso reduce da una scintillante affermazione nel recupero di mercoledì. Problemi a una mano per Giacobbe. Dicevamo, se non dovesse farcela, mister Bagatti potrebbe puntare. Su Musetti, versione centravanti, con alle spalle a quel punto Cogliati e Alessandro. Ma lo staff medico farà di tutto per far giocare il fantasista napoletano dal primo minuto. Non ci sono problemi di formazione per l'allenatore che dunque potrà schierare il miglior 11 possibile. è un Campobasso che continua a sognare i play-off. Re Canatese, città di Campobasso, sarà diretta da Roberto Lovison di Padova. Nella Re Canatese c'è l'ex di turno Andrea Sivilla da tenere sotto occhio. Ora parliamo dell'Isernia. Isernia che sarà di scena a Iesi contro la Iesina. Uno spareggio salvezza per la formazione bianco-celeste. Avvicendamento in difesa per Massimo Silva che dovrà rinunciare allo squalificato Frabotta. Al suo posto ci sarà Barretta. 5-3-2 il modulo utilizzato dall'allenatore. In mezzo al campo dovrebbe rientrare Iaboni. in versione interno di centro-destra accanto a Fazio. In attacco potrebbe esserci qualche novità. C'è il giovanissimo Pierluigi Vitale che è in forma smaiante. L'allenatore potrebbe concedergli anche una maglia da titolare oppure inserirlo durante il match. Iesina-Isernia sarà diretta da Edoardo Papale della sezione di Torino. Infine l'Olimpia Agnonese impegnata sul terreno di gioco di Avezzano. Anche questo è uno spareggio salvezza. L'Olimpia Agnonese reduce dalla sconfitta di mercoledì con il Cesena a Termoli. Gara a cui si riferiscono le immagini. L'Olimpia Agnonese potrà contare sul rientro dopo aver scontato la maxis qualifica del centrocampista Peic. Un rientro importante perché è l'unico lì in mezzo che abbina quantità e qualità. In attacco prevista la conferma di Formuso che dovrebbe giocare dal primo minuto. A lui e agli altri attaccanti la dirigenza e lo staff tecnico chiedono i gol necessari per poter ottenere un risultato positivo. L'Olimpia Agnonese non può permettersi il lusso di perdere contro una diretta concorrente che in casa fa fatica ma fuori casa vince. Avezzano reduce da due affermazioni di fila. L'ultima sul terreno di gioco del San Nicolò. Avezzano Agnonese sarà diretta da Marco Sicurello della sezione di Seregno. Lasciamo il calcio. Occupiamoci di basket di serie A2 perché la Magnolia sul parquet del Forlì ultimo in classifica per le Rosso Blu. Questo pomeriggio l'obiettivo è ottenere il diciassettesimo successo stagionale. Sentiamo Vincenzo Ciccone. Trasferta sul parquet del fanalino di coda Forlì è quanto riserva il calendario alla Magnolia Campobasso per il diciottesimo turno, il terzo del girone di ritorno nel girone sud della Serie A2 di basket femminile. Al di là però dei 30 punti di differenza in classifica il coach del Rosso Blu Mimmo Sabatelli è pronto a tenere le sue sulla corda. Noi dobbiamo pensare a noi, a ogni partita e non all'avversario che abbiamo di fronte. Sicuramente la classifica ci dice che c'è differenza tra noi e loro questo lo sappiamo, è innegabile però noi dobbiamo, tra virgolette, sfruttare queste partite per cercare di migliorare quei cali di tensione che abbiamo durante i match. Quindi queste sono le partite che ci permettono anche non solo sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto sotto quello mentale di fare dei miglioramenti dove abbiamo ancora dei piccoli problemi. Felice peraltro per quello che è stato l'ulteriore innesto in fase di mercato. Abbiamo preso una giocatrice importante, è innegabile, una giocatrice che non scopriamo noi quindi siamo contentissimi di averla portata qui a Campobasso siamo felicissimi dell'entusiasmo che lei ha avuto nell'accettare la nostra proposta e nel venire qui. Una ragazza sicuramente che si è messa subito a disposizione della squadra del gruppo che è entrata in punta di piedi perché è entrata in un gruppo già importante quindi questo fa capire come il valore anche umano della ragazza che abbiamo preso quindi sicuramente un notevole ingresso per noi. Da parte sua l'ultima arrivata Elisa Mancinelli è entusiasta di essere nel capologo di Regione. Arrivo con molto entusiasmo, sono soddisfatta e felice della scelta che ho fatto e di essermi aggiunta a questo gruppo che ovviamente aveva già trovato degli equilibri un gruppo solido e pieno di entusiasmo, quello che porterò anche io. E in prospettiva, al pari delle compagne, guarda l'appuntamento Coppa Italia. Beh, sicuramente cercando di fare il meglio nelle nostre possibilità e non parlo per scaramanzia però tutti sappiamo quali sarebbe il sogno e l'obiettivo. Bene, tutto anche con la pagina sportiva. Grazie dunque per averci seguito e arrivederci. Grazie ancora. Grazie a tutti.